Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore con l'Uni Allora, quest'oggi puntata veramente importante perché entreremo nel mese di gennaio dove si riaprirà il calciomercato e sarà subito un calciomercato estremamente scoppiettante per noi Comunque, a parte il mercato, penso che quest'oggi sicuramente affronteremo almeno il Rennes e poi forse anche il Montpellier Dipenderà da quanto tempo ci prenderà il calciomercato come al solito Comunque, raga, prima di iniziare, come sempre, vi invito a lasciare un mi piace E ad iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi E anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità E anche a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione Detto ciò, raga, direi che possiamo andare avanti Adesso c'è da far scorrere questi giorni e dobbiamo arrivare subito al primo gennaio Ed eccoci qua, raga, primo di gennaio ci siamo arrivati I primi informazioni importanti, ovvero Gentile che va alla società, De Pembele che va al Valencia E questo vuol dire che nelle nostre casse, ora come ora, abbiamo 154 milioni da investire per due giocatori Che poi non sono 150, sicuramente posso mettere anche 90-100 Sono sicuramente tanti soldi, ecco Quindi, raga, ciò vuol dire che dobbiamo andare subito nella nostra hub mercato E vedere un po' che cosa ci offre Allora, iniziamo chiaramente con il terzino destro Che è il ruolo, tra virgolette, meno importante Perché ci serve un sostituto, non ci serve un titolare E chiaramente non vorrei spendere troppo Vorrei spendere massimo, non lo so, una trentina di milioni Ci sarebbe Lampti, che però abbiamo da poco utilizzato con il Sassuolo Però sicuramente è un'opzione da prendere in considerazione Poi abbiamo Thomas Tavares, che sinceramente è il mio preferito E poi, raga, praticamente non abbiamo più nessuno Vediamo se come direzione sinistra ce n'è qualcuno che gioca però sulla destra No, raga, per niente, non c'è nessuno Quindi, allora, c'è da scegliere subito fra Thomas Tavares e Lampti Allora, io andrei su Tavares per la questione prezzo Perché Lampti, secondo me, ci verrà a costare un 45 milioni o giù di lì Sicuramente proviamo a fare un'offerta Vediamo un po' che ci dicono Però provo a partire veramente basso 35 milioni, ne vogliono 52.2 5% di clausola, vogliono parecchi soldi Quindi io provo a fare 38 milioni Vediamo, 53 sono fermi Alziamo a 40 Comunque cerchiamo di trattare fino alla fine Perché alla fine uno fra Lampti e Tavares sarà per forza di cose uno Cioè il nostro nuovo terzino Comunque 42 milioni serve del tempo Secondo me sui 45 come ho pensato io prima E invece Tavares, raga, dovrebbe venire via a molto meno L'abbiamo già utilizzato l'anno scorso con il Napoli Però per poco, anche adesso dovrebbe venire per poco tempo Perché si spera che questa qui sia l'ultima stagione Quindi sicuramente qualche mese Comunque partiamo, belli passi Da 28 milioni di euro Vediamo il Fulham che ci risponde 46 addirittura, ma lì stava scritto che massimo 39 ed era nostro E no FIFA, così non si fa Non mi inganni così Io alzo a 30 Sicuramente arrivo anche a 32 e mezzo Vediamo che risponde il Fulham La cosa strana è che non abbassa di un centesimo Facciamo 35 Ma ragazzi non c'ha tanto senso Perché se lì stava scritto massimo 39 Perché loro sparano a 40 Boh, ormai FIFA si perde pure su ste cose Comunque, raga, il terzino abbiamo fatto le nostre offerte Andiamo a dare un'occhiata anche ai centrali La scelta qui è un po' più ampia, leggermente Chiaramente vorrei un giocatore bello, forte Che sia della forza di Gentile Quindi deve essere sull'86-87 Anche di più ci sarebbero giocatori come Ruben Dias Ma è troppo per noi, laga Non ce la facciamo con i soldi Non rientriamo con gli stipendi Militao potrebbe essere interessante Ma anche lui costa parecchio Ma la clausola da 127 milioni non è da trascurare Poi c'è anche Upamecano Ci sarebbe da fare offerte a tutti Chiaramente, anche Koundé Però Koundé si è appena trasferito all'Inter E poi, raga, fondamentalmente Questi sono Bisognerebbe cercare qualche difensore Magari più anzianotto Che costi al di sotto dei 100 milioni Che però sia già un 90 O giù di lì Dovrebbero esserci giocatori così Io, mo, non ho cercato approfonditamente Il primo che mi viene in mente Non so perché è Marchinhos Che infatti a 30 anni Vale 98 milioni È un 90 Vediamo un po' Se il Paris lo fa partire Sì, però vuole veramente tanto Quindi lo escluderei Perché costa quanto gli altri Ma, ragazzi, devo pensare ad altri difensori forti così Ecco, raga, adesso sto cercando un po' Per esempio, Koulibaly Però è sceso veramente tanto Koulibaly è un 85 Tenderà ad escluderlo Comunque giocatori così Io, mo, mi metto un po' a cercare Non perdendo troppo tempo Chiaramente è chiaro che Aspetterò anche vostri commenti Però con giocatori di, diciamo, tipo Marchinhos a livello di età E overall Che costino Però possibilmente meno È chiaro che Quello non si può vedere prima Dipende in questa carriera Quanto sono cresciuti Però sicuramente I nomi si possono fare John Stones, per esempio Eccolo 86 Inglese Gioca al Leicester Questo qui lo lasciamo in lista Un profilo del genere Potrebbe essere interessante Eccolo qui Van Dijk Vale 49 milioni Vale poco Però Van Dijk Nonostante i 33 anni Sarebbe perfetto C'ha pure una clausola Raga, questo qui è da contattare subito Ok, raga Ho visto un po' Praticamente Li ho messi tutti in lista Il cerchio si restringe sempre di più Allora Chiaramente quello più anzianotto È Van Dijk Però Comunque ha 33 anni Ma è pur sempre Van Dijk E poi deve fare il difensore Quindi Diciamo Non è che deve correre Avanti e indietro per il campo Poi Rafa Varane Stesso discorso Sicuramente Raga Hanno tutti degli stipendi altissimi Però Per esempio Un Van Dijk Che verrebbe via 60 milioni Sarebbe l'affare del secolo Poi appunto Stones Che però già Tra virgolette Mi eccita un po' di meno Rispetto agli altri Poi abbiamo Screener Lui col prezzo Praticamente è bloccato È appena andato a Barcellona Però con 75 milioni Secondo me Verrebbe via E poi abbiamo anche Jimenez Anche lui Non costa troppo È chiaro che Il primo Che vado a chiedere Van Dijk Perché Secondo me Non bisogna pensarci Due volte Van Dijk È sicuramente Un difensore mostruoso E averlo Nella nostra squadra Sarebbe impressionante Poi è chiaro È chiaro che si considerano Sempre giocatori come Upamecano Militao Con me Però costano veramente Troppo E sicuramente Non possiamo neanche Permetterceli Quindi io Per iniziare a scaldare Un po' la situazione Andrei subito su Van Dijk Adesso dipende Praticamente Tutto da Liverpool A quanto ce lo daranno Io provo a partire Con 50 milioni 68 Raga Non è tanto Provo ad abbassare A 52 e mezzo Vediamo se riusciamo A far abbassare Ancora di più Le pretese di Klopp Sono fermi a 68 Facciamo 55 Vediamo adesso Che ci risponde Ho sbagliato 55 milioni Tondi Tondi Sempre lì E quindi A sto punto Facciamo 58 Vediamo Hanno accettato Raga 58 milioni Per Van Dijk Ha 33 anni Ma è un 89 E soprattutto È Virgil Van Dijk Quindi Senza perdere tempo Dobbiamo rimpiazzare Gentile Per un tratto breve Nel senso Che io spero Che dopo Questo finale Di stagione Finisca qui Tutta la carriera Quindi È un investimento Per il presente Van Dijk Sicuramente Non è per il futuro Ma è per adesso Quindi Provo a trattare Perché adesso C'è il problema Stipendio Visto che il Liverpool Prende veramente Un capitale Vediamo che vuole essere Cruciale Chiaramente Nonostante L'età Ma sicuramente Giocherebbe ancora Titolare Anche nel Liverpool E in tutte le squadre Del mondo Nessuna clausola Recissore Recissore Lo stipendio Se lo abbassa Ma è comunque Altissimo Io raga Vi dico di più Io provo addirittura A fare Centomila Settimana Però ti do Tre milioni Di euro Che cosa mi rispondi No Per ok Sono disposto Ad alzare Al massimo Sono disposto A mettere Anche 4 milioni Qua Anche 4 e mezzo L'importante È che lo stipendio Rimani A centomila E ce l'abbiamo fatta Ed è arrivato A sorpresa Signori Un giocatore Fenomenale Virgil van Dijk Che si va A piazzare subito Nella nostra squadra Eccolo qui Questo qui Potrebbe già essere Praticamente Il capitano Della squadra Però è chiaro Che a Stavranx Non si tocca È perfetto E al primo di gennaio Già abbiamo fatto Un acquisto assurdo Come quello lì Di van Dijk Occhio che qui Il Brighton Accetta 42 milioni Per l'Amte Adesso bisogna vedere Cosa ci risponde Che squadra era Non mi ricordo già più Il Fulham Il Fulham Certo Il Fulham Per Tavares Perché È chiaro Che se Tavares Mi vanno a chiedere Sempre 46 milioni Vado sull'Amte A questo punto E infatti raga Il Fulham Rifiuta però Chiede 37.8 Improvvisamente Hanno abbassato Bene così Vado a trattare di nuovo Per guadagnarci Sempre qualcosina Un po' Tante volte Magari Questa volta 35 milioni Me lo accettano No no 37.8 Facciamo 36 milioni Devo vincere io Magnoia Facciamo 37 Senza gli 800.000 Hanno accettato Oddio Ho vinto Di 800.000 euro Non è nulla Rispetto al nostro budget Ma ho comunque Vinto io Quindi raga Andiamo a trattare Anche con Tavares Lui Quanto prendeva Di stipendio 62.000 Quindi Sicuramente Dovrebbe essere Alla nostra portata Considerando che Stiamo dando 100.000 euro A Van Dijk A settimana Sicuramente Non è un problema Tavares Comunque 5 anni di contratto Nessuna Cosa Lo riscissore Lo stipendio Lo fa decidere A me Attenzione Perché qui Secondo me Si può abbassare Visto che viene Dalla Premier Però ho paura Che succeda qualcosa Di brutto Quindi Gli do 1.5 di bonus Incaggio Che accetta subito L'ho strapagato Probabilmente Però I soldi Ce li abbiamo Siamo a fine carriera Mi auguro Ma io sto continuando A dire questa cosa Poi può essere Che perdiamo Tutto E devo fare Una quinta stagione E' perfetto Il nostro L'abbiamo fatto Ovvero Rimpiazzare Pembele E Gentile Adesso Bisogna vedere Se arriveranno Altre offerte Sì Per Aster E Branks Da parte del Monaco Occhio Monaco Che sicuramente Non sia La squadra adatta Visto che Sei una nostra Diretta concorrente Comunque Improvvisamente A Branks Disabbassato il valore Probabilmente Sta per bloccarsi Anche lui Arriverà ad 86 Probabilmente Gli si bloccherà La crescita Probabile Considerando che è arrivato Che era un 67 All'epoca Ed ha ancora Quello stipendio 4.000 a settimana Comunque raga Sicuramente Vado a trattare Ma vado a chiedere 200 milioni Ma veramente Il minimo Per un giocatore Come Aster e Branks Di rifiutano a prescindere Ma è normale Nuova offerta Questa volta Tocca a Marsego Da parte del Lione Quindi sempre offerte Dalla Francia Marsego è sicuramente Un giocatore Molto interessante Che valuto Circa 40 milioni Vediamo un po' Il Lione Che ci risponde 40 milioni Sono fermi a 31 Attenzione Che si potrebbero Avvicinare Anche 38 milioni Per Marsego Mi potrebbero andare bene Infatti Accettano 39 Ancora offerta Questa volta Il Liverpool Su Fabio Viera Me l'aspettavo Prima o poi Un'offerta del genere Fabio Viera Giocatore eccezionale Fondamentale Fenomenale È un 87 Il Liverpool Ci offre 116 milioni Possiamo arrivare E superare I 150 Visto che vale 92 milioni Io chiederei anche 180 Però mi limito A 160 Perché comunque A parte tutto Bisogna considerare Che ha la crescita Bloccata E poi 160 milioni Da un 87 Sicuramente Povero Un rimpiazzo Lo trovi Ma richiudono A prescindere E arriva anche L'ufficialità Della cessione Di Massa in Go Adesso teoricamente Bisognerebbe trovare Un sostituto Che andiamo A vedere subito Se magari C'è già E vediamo un po' Che cosa ci offre La nostra lista Per quanto riguarda I centrocampisti Vorrei un giocatore Sull'80 Secondo me È la scelta giusta Eccoli qua Iniziano adesso Beh raga C'è De Jong Col prezzo bloccato Però ha uno stipendio Disumano Non lo guardiamo Altrimenti Mingo Usisco Comunque Allora È un po' Che cosa abbiamo Vencedoro 83 Non costa troppo Si potrebbe tranquillamente Provare a prendere Rovella Sarebbe un colpo Molto interessante Un talento Italiano Ci starebbe Schwameni Però andrebbe A pestare i piedi A Brax Kokciu Un altro giocatore Interessante E forse Sono finiti Già qui Vediamo se c'è Qualche C.O.C. Che possiamo mettere Al centrocampo Vediamo Penso di No No Infatti E quindi Raga Bisogna Scegliere Praticamente Fra Allora Kokciu Che è sicuramente Un giocatore interessante Da tenere in considerazione 24 anni Ha tante caratteristiche Un bel centrocampista Mi sembra abbastanza completo E come piace a me Che sa fare anche il C.O.C. Quindi Ha il bizzietto Del gole Dell'inserimento Rovella Bellissimo giocatore Lui già più regista Più centrocampista Puro Diciamo All'Andrea Pirlo Però Non esageriamo Ma va considerato Anche lui Vencedor È un bel giocatore Mai provato Sarebbe un nome nuovo Sicuramente Un talento spagnolo Che ci farebbe Sicuramente comodo Vista la Champions Poi Dobbiamo considerare Che sulla sinistra Sul centro-sinistra Abbiamo Estevez E appunto Braganza E invece Sulla destra Avevamo Massengo Che era un 79 Estevez Un 82 È vero che Di piede destro Potrei magari Cercare un giocatore Col piede sinistro In modo da spostare Estevez Sulla destra Però C'è da considerare Pure Che ormai Estevez Ha sempre giocato Sul centro-sinistra Quindi sarebbe Inutile Spostarlo Sulla destra Perché Ha sempre giocato Bene lì Quindi lasciamolo lì Questo è il senso Del concetto Quindi raga Io sinceramente Proverei ad investire Subito Sul vencedor Ve lo dico proprio Palesemente Vediamo però A quanto verrebbe via Ha anche uno stipendio Ancora basso Essendo all'espagnolo Quindi Sicuramente È un colpo Che ci starebbe benissimo Provo a partire Da 40 milioni Vediamo che ci dicono Ne vogliono 57 Ok Io pensavo che Sparassero Altissimo Invece Si stanno limitando Proviamo 42 e mezzo Sono fermi Alla stessa cifra Vediamo se si smuoveranno Di un centimetro 45 milioni Offerti Rimangono invece Loro Fissi Sulla loro offerta 48 milioni Non puoi restare Indifferente Infatti Hanno accettato 48 milioni Per un 83 A centrocampo Come pensate Or Che secondo me Ha ottima statistica Per quello che ci serve Secondo me Sono soldi Veramente Ben spesi E poi forse 8 abbiamo trovato Il battitore Di punizioni Perché Ha punizioni Potenti Ma non so Ha 81 Di precisione Punizioni Forse abbiamo trovato Che ci batte le punizioni Quindi eccoci qua A trattare Vuole essere importante Ci può stare 4 anni di contratto Facciamo anche 5 Visto che non ci costa nulla Ignoriamo la clausola Recissora Lo stipendo Lo fa scegliere a me E allora In questo caso Devo considerare Che è diventato Un 83 Quindi vorrò Fare il salto Di qualità Quindi posso provare A proporre La stessa offerta Che ho proposto A Tavares Quindi 50 mila Con un milione e mezzo Di bonus In gaggio Purtroppo raga Uno dice Un milione e mezzo E tantissimo di bonus Però secondo me Potrebbe essere anche poco Io purtroppo Ho sempre paura In questi casi Offerta equo Ok Abbiamo acquistato A sorpresa Anche un nuovo centrocampista E oggi stiamo facendo Tantissimo calciomercato Tantissimi discorsi Tantissime trattative E nonostante questo Abbiamo ancora 31 milioni Quindi andiamo avanti Un altro pochino Trattativa sfumata Giustamente con l'Amte Arriviamo Alla partita con Ren E sinceramente Possiamo anche fermarci Visto che Abbiamo fatto Solamente calciomercato Comunque Non è finita qui Offerta Per le coq Da parte del Brentford Ormai costa Veramente poco Il capitano E a questo punto Non ha neanche Senso venderlo Quindi rifiuto Le coq Deve restare Perché È una bandiera Quindi Non lo vado a vendere Comunque Come immaginavo FIFA vuole Che Van Dijk Sia il capitano In questi casi Con i giocatori esperti FIFA fa sempre così Comunque Pedro Neto Ha detto Che potrebbe Già scendere in campo Potrebbe già giocare E sicuramente Vediamo un po' Se è il caso Se è il caso di rischiarlo Non abbiamo partito E fra una settimana Quindi posso provare A metterlo in campo Sicuramente È perfetto raga Adesso quindi Cambia anche Un po' La nostra squadra Quindi ci sta Fermarsi qua Abbiamo visto Tantissimo calciomercato Tantissimi discorsi E abbiamo Diciamo Perso tempo Con la scelta Del nuovo difensore Quindi secondo me Ci può stare Fermarsi qua Ma sicuramente Invece Nella prossima puntata Vedremo La partita Conti il Ren Probabilmente Anche contro il Montpelliere Vediamo Se continueranno Ad arrivare offerte Come oggi Quindi raga Non posso far altro Che salutarvi qua Vi lascia un like Un commento Ma soprattutto Iscrivetevi al canale E seguimi sulla pagina Instagram Noi ci vediamo Ad un prossimo episodio E ciao a tutti